e dal sedici al ventuno aprile si terrà all'auditorium parco della musica Ennio Morricone di Roma la diciannovesima edizione del Festival delle Scienze. E noi ne parliamo proprio con il direttore del festival a cui diamo il benvenuto Vittorio Bo. Buonasera. Eccomi buonasera grazie molte. Buonasera e benvenuto. Allora cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione del Festival delle Scienze di Roma? Ma intanto a partire dal titolo che è Errori e meraviglie. Perché questo titolo? Perché spesso dagli errori che vengono considerati erroneamente, scusate il bisticcio di parole, degli elementi negativi o solamente negativi, si può arrivare, si arriva magari senza percorrere un percorso lineare, alla scoperta, quindi alla meraviglia della scoperta. L'errore è qualcosa che appartiene alla nostra indole, al nostro modo di essere. Come dicevo prima, si pensa sbagliando che l'errore sia solamente un grande inciampo, una sconfitta. Spesso nella nostra cultura non è così, ma in quella per esempio anglosassana, americana in particolare. Del contrario, l'errore è qualcosa che fortifica, che solidifica, che porta a dei risultati che sono a volte assolutamente inaspettati e molto nuovi. Quindi anche il modo con cui noi affrontiamo la natura, ciò che ci circonda, quello che è assolutamente vicino a noi e che non abbiamo sufficiente attenzione e considerazione per essere rispettato. Quest'anno per esempio abbiamo un bellissimo spettacolo, un'anteprima nazionale di uno spettacolo di Telmo Pievani che si intitola Nomadic, un canto sulla biodiversità, perché il nomadismo e le migrazioni hanno spesso rappresentato un qualcosa non solo di necessario, ma anche di straordinariamente nuovo e soprattutto delle scoperte nel mondo animale, così come nel mondo vegetale, che non ci aspettavamo, che non ci attendevamo. Quindi il senso del festival è quello anche di scoprire ciò che dobbiamo difendere. Ci sarà un bellissimo intervento di Gaia Vance, che è una giornalista scientifica inglese, che ha scritto un libro che si chiama Il secolo nomade, nel quale ci racconta, ci invita a pensare soprattutto come le migrazioni, che sono sempre state una caratteristica fondamentale, come dicevo prima, dell'essere umano, siano non solo naturali, ma siano fondamentali anche per contrastare ciò che sta avvenendo nel nostro pianeta, cioè un cambiamento climatico sempre purtroppo più evidente, sempre più marcato, che sta mettendo in crisi intere parti del nostro pianeta, basti pensare alle isole molto basse. E quindi lei invita a considerare la prospettiva delle migrazioni come qualcosa di utile, pensare che possano essere salvate delle vite, possano essere scoperte e vissute delle parti della nostra terra che non lo sono e che potranno diventare molto più vivibili. Pensiamo per esempio al Canada del Nord, alla Siberia soprattutto, alla Scozia, alla Norvegia eccetera. E quindi pensare in un modo diverso la vita sul nostro pianeta. Quindi insomma un programma molto ricco, con tanti appuntamenti, tanti ospiti. Prima di salutarla, direttore, noi spesso qui a Rapporto Mondo, in generale su teleambiente, parliamo di lotta alla crisi climatica, perché insomma gli scienziati di tutto il mondo stanno analizzando da diversi punti di vista quelli che sono gli impatti che il riscaldamento globale ha sulle nostre vite e anche quali sono i metodi per mitigare questi cambiamenti climatici. Quindi occasioni come il Festival delle Scienze di Roma sono anche un punto di incontro importante tra, diciamo, noi profani e la comunità scientifica. Assolutamente. Uno dei nostri fini, una delle nostre ispirazioni maggiori è sempre stata quella di avvicinare il più possibile tutti, dai più piccoli ai più grandi, ai temi della scienza e della conoscenza attraverso esperimenti, attraverso conoscenza di scienziati e scienziati, attraverso mostre. Per esempio quest'anno avremo una mostra molto bella, cura dell'ISPRA, meravigliosa natura, umani errori, per farci comprendere quanto noi dobbiamo conoscere di più, quanto dobbiamo essere in grado anche di portare nei confronti del prossimo, pensiamo soprattutto alle giovani generazioni, perché avvenga una maggiore presa di coscienza e soprattutto una consapevolezza che ci aiuti a migliorare. Grazie. Allora di tutto questo ne parleremo, ne parlerete e noi vi seguiremo al Festival delle Scienze di Roma dal 16 al 21 aprile all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Grazie mille per essere stato qui nostro ospite a Porto Mondo. Infinite grazie a voi.